E cosa stavi guardando? Quando? Dentro, in televisione. Non è la televisione, quello era un film strano. C'era la mangano che prima è suora, poi balla in mezzo... E vabbè, ogni tanto capiterà il cattivo. Non guardi mai la televisione? Mai. Sono trent'anni che non la guardo più. Però... Sai cosa dice Hans Magnus Enzensberger? Che... Sono d'accordo con lui. Che...